Weekend di Futsal, dal torneo di A1 sino a quello cadetto per altri 40 minuti di gioco da vivere al Cardiopalma. Nel massimo torneo, in cerca di riscatto, l'Ital Service Pesaro guidata da coach Scarpitti. Due sconfitte consecutive, entrambe in trasferta. Questa sera in anticipo il ritorno al Palafiera contro il Pomezia, imbattuto in campionato con una vittoria e due pareggi. Questa sera in campo anche il Genzano, ospite del Napoli, al Palai Acazzi. La squadra di Umberto Caruso, reduce dalla sconfitta interna contro l'Impus Roma, unica società a punteggio pieno in A1, fa visita ai partenopei che possono contare su un roster di primissimo piano. Nel torneo di A2 Litta, la ricerca della prima vittoria è il Cusmo Lise che riceve il Capurzo al Pala Unimol. Domani, con calcio d'avvio alle 17.30, occasione propizia per la squadra di San Ginario. I pugliesi sono fermi a zero punti, con due sconfitte ed il turno di riposo già osservato. Il campionato è davvero competitivo e i molisani non possono fallire le gare casalinghe contro avversari diretti per la salvezza. Questo sarà il ritornello di tutta la stagione. Il parquet di casa dovrà essere fucina di punti per mantenere la categoria, in particolare negli scontri chiave. Siamo appena alla quarta giornata, ma possiamo già parlare di sfida importantissima per i molisani. Serve un successo per cambiare passo e trovare maggiore intensità in vista dell'immediato futuro. Alle porte un miniciclo di ferro, Cusmolise in campo domani, poi mercoledì nel turno infrasettimanale in terra siciliana contro la Sigurlube Futsal di Regalbuto, provincia di Enna. E sabato 4 novembre di nuovo al Pala Unimol, questa volta contro Litria. Dopo queste tre gare ravvicinate si potrà tracciare un primo mini bilancio. In cadetteria, gara casalinga per lo Sporting Campobasso, che attende domani allo Sturzo, ore 16, i Leoni di Acerra. Entrambe le squadre sono le uniche ad aver perso le prime due gare di campionato, zero punti e tanta voglia di cancellare lo zero dalla classifica. In particolare per i Campobassani, ancora scottati dalla sconfitta di Colleferro, avanti 3-0. La squadra di Pietrunti ha subito un clamoroso ribaltone dai laziali, un passo falso che ha lasciato tanto amaro in bocca. Le esperienze servono da lezione, la frustrazione va trasformata ora in cattiveria agonistica. Una cattiveria intesa come voglia di ottenere il primo successo stagionale a tutti i costi. Questo è l'obiettivo dello Sporting. In settimana la squadra si è allenata nel migliore dei modi, con la giusta attenzione. Mister Pietrunti ha lavorato sull'aspetto mentale dei suoi ragazzi. Il periodo di apprendistato è concluso. Ora è tempo di mettere a segno la prima vittoria storica per la società rosso-blu in un torneo nazionale.